Oggi siamo andati alla scoperta di colui che ci manda le previsioni meteo che vengono trasmesse nel nostro telegiornale. Vediamo il servizio. Tutte le sere al termine del nostro telegiornale vi facciamo vedere le previsioni del tempo che sono curate da un ragazzo che non è neanche tanto distante da noi in quanto si trova a Varone e noi adesso ci troviamo proprio nella sua casa e questo ragazzo ci fornisce appunto tutti i giorni le previsioni del meteo grazie alla sua passione e a degli strumenti apposta che lui ha per verificare appunto proprio il tempo che farà nei successivi giorni. Andiamo ora a scoprire la postazione meteo del nostro meteorologo di fiducia. Ciao Matteo. Ciao Alessandro. Ciao. Da quanti anni fai queste previsioni tu? Ma le previsioni da circa una quindicina di anni dal 2000 più o meno dal 1999-2000 mentre dal 1994 faccio le rilevazioni quindi rilevo la pioggia che cade, le temperature e così via. Invece le previsioni vere e proprie da circa 15 anni da 2000. Le tue previsioni si basano su quali dati? Su come fai a raccogliere i dati? Vedo qua il computer. Ma come si può vedere anche c'ho la mia stazione qui a Varone di Riva del Garda e ho le webcam, varie webcam qui nell'Alto Garda quindi questo è per tenere d'occhio diciamo il tempo al momento e per fare le previsioni a breve termine quindi entro poche ore per vedere se arrivano i temporali e così via. Dopo chiaramente per fare le previsioni per domani, fra due giorni, per il weekend abbiamo altre strumentazioni che si trovano su internet quindi le varie mappe di previsione che ti fanno vedere l'andamento della temperatura nelle varie zone, le zone dove dovrebbe piovere quindi facendo ovviamente dei calcoli si possono con l'esperienza soprattutto poi si può fare anche la previsione meteo vera e propria quindi per domani per i prossimi giorni così via. Matteo da quanti anni dura questa tua passione? Come è nata? Come tanti per tanti che sono appassionati di meteorologia spesso è stato un evento un evento singolo della propria infanzia magari a generare a far nascere questa passione come per tanti da mia età per me è stata la nevicata dell'85 di cui ho vari ricordi e quello mi ha fatto veramente nascere la passione per capire cosa succede in cielo per far venire giù una nevicata del genere e dopo da lì un po' la volta anche la nevicata del 91 di febbraio e la nevicata del Natale 93 ecco pian pianino un po' la volta mi hanno fatto nascere questa passione che poi è esplosa tra virgolette nel appunto come dicevo prima nel 94 verso il 94 95 e da quel momento ho cominciato a studiare oltre che rilevare i dati ho cominciato anche a studiare per cercare di capire bene come nasce la neve come arrivano i temporali perché avviene il freddo e avviene il caldo e nel corso degli anni la passione aumentata e sono riuscito a trasformarla in un lavoro ho fatto anche dei corsi di aggiornamento commento trentino e quindi dal come dicevo prima dal 2000 2001 l'ho trasformata il mio lavoro perché nel 2001 aperto il mio sito guarda meteo e quindi l'ho trasformata effettivamente in un lavoro ai progetti che svilupperà in futuro sì come dicevo ormai sono vent'anni che rilevo i dati quindi mi piacerebbe a breve preparare un libro un documento su questi vent'anni di rilevazioni con tutte le medie i record che ci sono stati oltre a una sezione mari con le curiosità storica qua della zona le nevicate più grosse i caldi più intensi che ci sono stati perché oltre arrivare i dati sono andato un po' anche a ricercare i vecchi dati qui della zona quelli di 50 anni fa 70 anni fa delle stazioni storiche ho fatto delle ricerche negli archivi dei giornali quindi ho anche tanti articoli sono riuscito a trovare delle foto d'epoca e quindi ho un buon archivio anche di cosa è successo 50 anni fa 70 anni fa oltre ripeto a questi vent'anni qua miei il caldo che è arrivato in quest'ultimo paio di giorni quanto durerà più o meno ma per spiegarlo magari potremmo fare un salto presso la mia stazione parlavamo poco fa del forte caldo che è arrivato in questi ultimi giorni e che probabilmente proseguirà per quanto durerà ancora quest'ondata di caldo ma dovrebbe durare probabilmente fino a circa metà della prossima settimana quindi fino all'8 9 luglio forse sperando dopo verso il 10 di luglio potrebbe esserci un po un calo dovremmo rientrare nella media che non è che via in freddo però dovremmo rientrare un po più su valori più normali nelle due previsioni che ci mandi ogni tanto che poi trasmettiamo al telegiornale tu parli di temporali di calore cosa sono questi temporali di calore come si formano come dice il nome stesso sono quei temporali che si formano soprattutto nelle giornate molto calde e soprattutto nelle giornate affose quindi ad esempio una giornata come oggi è già più difficile che si formino perché come si può vedere non sono tante nuvole proprio perché hanno bisogno temporali di calore hanno bisogno dell'umidità del caldo umido e sono temporali che sono staccati diciamo da una perturbazione vera e propria sono temporali molto locali per cui ad esempio sono quei quelli eventi in cui magari diluvia mettiamo la pasina e a santo mangio non fa neanche una goccia sono veramente temporali molto localizzati come ad esempio quello di sabato scorso quello è stato un temporale di calore che era atteso non così intenso sinceramente con una grandinata così però ecco quelli sono i classi di temporali di calore ad esempio anche in quel caso li ad esempio ha grandinato molto a tenno ma ad esempio a dron non ha fatto quasi niente di grandine e proprio perché sono temporali molto locali di un chilometro due chilometri tre chilometri al massimo e si formano come dicevo con soprattutto in presenza di molta umidità perché e soprattutto nelle zone vicine alle montagne perché con le montagne ovviamente i fianchi delle montagne esaltano il rialzo dell'aria calda e quindi questo provoca la condensazione dell'umidità e quindi la formazione di temporali